Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPLI per lavori 5 km di coda tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assigna in direzione Firenze. Sulla A1 per lavori 1 km di coda in direzione Bologna tra Firenze Sud e Firenze Imprunita. Rallentamenti tra Firenze Imprunita e Firenze Scandicci. Per un veicolo in avaria 3 km di coda tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso, code a tratti tra Pistoia e il Bivio per la 1 in direzione Firenze. La viabilità cittadina a Firenze in via di Sollicciano a partire da oggi. Divieto di transito per lavori tra via Tartaglione e via Diugnano. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!